Notate la gradazione, prova con l'amore, poi c'è un altro gradino, con tanto amore, con tutto l'amore esaurisci l'amore. Questo è il Battista, questo è Gesù, questo è il Patripio, rimane anche per noi la stessa via. Dio ha tanto amato il mondo da inviare suo figlio, non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. In un momento di silenzio, in un momento di silenzio, lasciamoci chiamare da questo amore, lasciamoci coinvolgere da questo amore, tutti, tutti noi. Dio ci ama di un amore inimmaginabile. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie. Grazie. Grazie.